Diciamo che in questo momento stiamo provando un po' di macchinari a casa Peggiori macchine del Caracas Le stiamo provando tutte No, fai video? No, questa voglio la foto con la catena Buongiorno ragazzi, Lorenzo e Luca qua per voi, benvenuti nel video di oggi Allora, come potete vedere, ora non posso farvi vedere troppo la palestra Perché inquadro mille persone, siamo in una palestra nuova Finalmente Finalmente, bene, abbiamo cambiato Siamo passati dalla Gasfit, dove eravamo, in via Piacenza E siamo venuti qua in Macfit, in sede di via Luisa Battistotti Sì, impossibile da pronunciare questo nome Perché se l'hai ricordato Comunque, abbiamo voluto cambiare palestra un po' per allenarci anche un attimino in un modo migliore Ci sono più pesi, più macchinari E poi ragazzi, anche così magari portiamo a un livello un po' più superiore le riprese video Stimoli nuovi Esatto, un po' più carine Abbiamo da portarvi un paio di novità Protocollo parte 3, quindi finale Dobbiamo iniziarlo lunedì Dobbiamo iniziarlo lunedì Si tratta dell'ultima fase, dell'ultimo ciclo di 6 settimane del protocollo appunto Che stiamo seguendo da 12 settimane oramai Abbiamo fatto le prime due, le prime due da 6 e questa è la terza panchetta da 6 Prevederà panca ovviamente, sport e stacchi come a scuola Ci stanno uscendo dalle orecchie questi esercizi Infatti è stato molto powerlifting Però ragazzi, cioè a livello di forza eccetera, i risultati sono strepitosi Quindi vediamo un pochettino cosa succederà E oggi visto che è giorno relax facciamo qualche esercizio un po' differente Che non c'entra molto con il protocollo Beh, quindi direi di partire subito che mi sto annoiando Facciamo che in questo momento stiamo provando un po' di macchinari a caso Ragazzi, è scattata l'ignoranza Le peggiori macchine del Caracas Le stiamo provando tutte Tutte le stiamo provando Tanto oggi va così ragazzi Giorni di broso Facciamo un po' quello che ci piace Stiamo provando i macchinari nuovi che non abbiamo mai provato in vita nostra Boh Perché sono i bicipiti Quando si parla di bicipiti Siamo i primi a utilizzare tutti i macchinari Vai man, vinta il rosso Ma tu com'eri messo? No, è impossibile frutta la messa Al contrario Sì, 1080 Mi racconto Mi racconto, scendi No, questa voglio la foto con la catena Com'è che se la metto in tutto? Per farla foto? Dove la foto? Io sì, aspetta Aspetta La palestra l'avete vista? Bella Siamo allenati Soddisfatti Un po' a caso come abbiamo detto Perché era giorno libero Soddisfatti sì Abbiamo parcheggio dentro Quindi siamo comodissimi Al top Siamo al top La prossima volta direi che Vi vogliamo assolutamente parlare Del protocollo magico Che sentite nominare Da un botto di tempo Esatto E mai avete capito Di che protocollo veramente si tratta Di che cosa si tratta Di niente insomma E quindi andremo a spiegare un po' Ragazzi se vi è piaciuto questo video Un bel like direi Come al solito Per favore metteteci un bel like Pure gratuito Esatto Avete qualche dubbio, domanda, richiesta Come al solito ragazzi Qua sotto c'è l'area dei commenti Tranquilli Commentateci Noi vi risponderemo Anche perché ci date i nuovi input Per nuovi video Magari se avete qualche idea Fatecelo sapere Condividete questo video Con i vostri amici Se vi va appunto E noi ragazzi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video